Quindicesima giornata di Serie A della Lega Calcio 8 All'Atletico 2000 questa sera si affrontano Magnitudo del Bene Pneumatici contro Audace Savoia Ultima gara del giorno d'andata che servirà ad entrambe a capire fino a dove sono in grado di arrivare La giocata Valentini sul fondo dietro da Demofonti che stoppa calcio Palo, la pallarima nelle Ferrari 1-0 per l'Audace Ha segnato il numero 13 Ferrari e alla prima occasione va in gol la squadra ospite 0-1 Vediamo se andrà sopra la barriera o di potenza a parte Demofonti Ma che gol di Simone Demofonti 2-0 per l'Audace Dentro per Mari Mari deve girarsi, Mari va sul destro, calcia Mari Pallone di poco fuori, ma attenzione anche a Mari Ancora Massara, sta salendo asciuto, arriva asciuto, calcia Pallone prende una strada del lettore, la papera E c'è il gol che riapre la gara, accorcia le distanze e la magnitudo 1-2 Vuole tornare sul mancino, serve Massara che pensa anche al tiro Massara torna da Moscetti, controlla, Moscetti calcia Pallone a lato di poco Rita, partito Demofonti, lo vede Rita, ottimo pallone del numero 21 Demofonti controlla, rientra, calcia Deviazione e calcio d'angolo Duetta, noi due Valentini, poi Demofonti va in contro Col tacco per Valentini, che calcia alto Che giocata di Demofonti E qui termina la prima frazione tra Magnitudo del Bene Pneumatici e Audace Savoia Il risultato è di 1-2 in favore degli ospiti Pensa al destro, Massara Ha segnato incredibilmente con una mezza papera di Ciapponi Fatto col Ferrari 3-1 per l'Audace Col pallone lungo La sponda di Zuffardi Il mancino di Massara E la risposta di Giannone Ma Zuffardi Giannone para Poi la palla messa fuori Ma ancora ottima risposta di Giannone Si ferma Demofonti Serve lo stesso il numero 21 Rallenta troppo la manovra Poi va col sinistro in giro La palla rimane lì Ferrari Fa 4-1 E tripletta personale Valentini Demofonti col tacco Non è una novità 1-2 corrita Demofonti 5-1 5-1 Audace Ma come duettano questi due E come gioca il numero 10 Grieco interviene bene Perde un brutto pallone Ferrari Allora Grieco Calcia Giannone Ancora una volta a dire di no Ma non c'è più tempo Finisce qui All'Atletico 2000 Tra Magnitudo del Bene Pneumatici E Audace Savoia Con il risultato di 1-5 Per gli ospiti Che si aggiudicano Un match Che ha il sapore di salvezza Allora Grieco